Benvenuti al nostro Tg. 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 Nell'organizzazione di questa manifestazione podistica non competitiva ricordiamo infatti che la gara non prevede classifica finale e tutti i partecipanti rientrano in un'unica categoria. La società del presidente Nicola Baranello ha una macchina organizzativa ben collaudata e riesce a mettere in piedi anno per anno un evento di tale portata grazie anche ad uno staff operativo e dedito da anni alle dinamiche del gruppo sportivo Virtus e dello sport in generale. Per quanto riguarda le info generali le iscrizioni saranno aperte con un surplus di prezzo fino alle ore 9.55 di domani mattina. Per ragioni organizzative il gruppo sportivo Virtus ha precisato sui propri canali social che le iscrizioni saranno fino all'esaurimento dei numeri pettorali segno di riconoscimento in gara. La partenza della manifestazione è fissata alle ore 10 da piazza della Vittoria con il classico start dal monumento dei caduti prima di lanciarsi per il consueto percorso di 8 km che si snoderà per le strade cittadine periferiche di Campobasso per concludersi poi con l'arrivo in piazza San Giorgio davanti al municipio. Al termine della gara come di consueto a ciascun concorrente che concluderà regolarmente il percorso di gara sarà consegnata una medaglia ed un pacco con prodotti tipici rigorosamente molisani. Previsti anche premi per i gruppi organizzati più numerosi e per le scuole con maggior numero di partecipanti. Appuntamento allora domani mattina alle ore 9.30 per il raduno di giuria e concorrenti e vivere una domenica all'insegna della socialità e dello sport. A Campobasso un sabato ricco di appuntamenti nazionali si parte con il calcio a 5 di serie A2 alle ore 16 al Pala Unimol il Cus Molise ospiterà il Modena. Noi trasmetteremo in diretta questa partita sul canale 18 evidentemente della piattaforma digitale. Poi nel pomeriggio esattamente alle ore 18 spazio alla palla polo maschile di serie B con l'Energy Time Spike Devils che alla palestra dell'Istituto Montini Pertini Cuoco se la vedrà con l'Appio Roma. Alle 20.30 per la palla canestro femminile di serie A1 la molisana Magnole a Campobasso ospiterà la corazzata Schio. Adesso il calcio di serie D. Il Vasto Girardi è chiamato alla difficile trasferta di Fano. Undicesima giornata di campionato in serie D. In programma c'è un'importante sfida per il Vasto Girardi chiamato ad affrontare la quarta forza del raggruppamento F, l'Alma Juventus Fano. I marchigiani sono reduci dalla sconfitta di misura di Piedimonte Matese. Il tecnico Mosconi l'ha definito un incidente di percorso. Ha funzionato tutto ma il campo, ha dichiarato Mosconi, era insintetico, troppo piccolo, poco adatto al gioco ed i ragazzi non si sono trovati a loro agio nel fare la partita come al solito. In settimane Granata hanno preparato al meglio la sfida contro i molisani. L'obiettivo sono i tre punti, il Fano non ha alcuna intenzione di sganciarsi dal treno delle grandi. Intanto la società marchigiana ha comunicato via social di avere un nuovo direttore generale che risponde al nome di Stefano Fedele, il quale avrà il compito di interfacciarsi con la proprietà cercando di allargare la base societaria e valorizzare il brand Granata attraverso un rilancio gestionale e finanziario. In cerca di rivalza anche l'undici di Patron di Lucente, a secco di vittorie da cinque turni. Bisogna ripartire dall'ottimo primo tempo giocato contro il Termoli, un derby che è terminato in parità e senza vincitori, ma con un buon punto che tiene viva la classifica. I gialloblu infatti continuano a stazionare nei piani medio-alti della graduatoria, ad un passo dalla zona play-off. Contro il Fano, gli altomolisani cercheranno di cambiare rotta e di dare una svolta al periodo non proprio positivo. Mister Coletti avrà tutta la rosa a disposizione, con cui in questi giorni ha lavorato intensamente per non lasciare nulla al caso e farsi trovare pronti. In Porta Petriccione, difesa composta da Canale, Gallo, Gargiulo e Ruggeri, al centro del campo Iacullo, Grandi Seffiori con Lorusso, Calemme ed Hernandez a completare l'undici. Fano, Matese ed Avezzano, tre appuntamenti da non fallire. Si partirà domani con fischio d'inizio alle 14.30 al Raffaele Mancini. Fano, Vasto Girardi sarà diretta da Maxime Frasignac della sezione di Gallarate, assistito da Ionut, Eusebio, Nechita di Lecco e Carlo Farina di Brescia. Al Cannarza sono in programma i 90 minuti tra Termoli e Virtus Senigallia. Striscia aperta per il Termoli, sono cinque infatti risultati utili consecutivi, ma tutti pareggi che muovono sì la classifica, ma non toglie i giallorossi dall'ultimo posto a quota 6. In coabitazioni con il Roma City, bisogna centrare assolutamente la prima vittoria stagionale che, oltre a dare un forte imbusso alla classifica, darebbe una grande spinta a tutto l'ambiente. Per il proseguo del torneo, per l'undicesima giornata del calendario mette in programma la sfida interna al Vigor Senigallia, terza forza del torneo che arriva da tre vittorie consecutive. Ultima l'1-0 alla Vastese, dove ha realizzato quattro reti, subendone una. Squadra quella marchigiana che non conosce mezze misure, o vince o perde. Mister Clementi schiede i suoi con un 4-3-1-2 molto solido e compatto. Particolare attenzione e Termoli dovrà averla per il tridente offensivo composto dalla fantasia di Derrico, trequartista argentino, dal bomber albanese Kerjota e dal post-hander Dennis Pesaresi. Mister esposto di contro vuole una prestazione dai suoi stile Vasto Girardi, vogliosa di fare il risultato pieno. La squadra merita per quello che sta facendo e sarebbe il giusto premio. Tornando al campo, l'undici che affonderà i marchigiani sarà simile a quello che ha impattato in alto Molise sette giorni fa. Merelli confermato tra i pari, difesa titolare guidata da Sicignano, Cavaiola, Cagliazza e uno tra Derrico e Uzzol. Centrocampo con antezza Corcione e Ciofi. Tridente offensivo composto da Defendi, Carnevale in grande forma e Baldè, che parte in pole viste le non condizioni ottimali di Filo Gamo. Partita da non sbagliare, è importante fare i punti e rimanere attaccate alle squadre davanti. Al Cannarsa con fisco di inizio fissato le 14.30, Termo di Vigor Senigallia, sarà abitata la signora Matteo Giudice della sezione di Frosinone. Doppio turno in trasferta per il Matese. Si parte domani da Avezzano. Domani la sfida contro l'Avezzano, quarta forza del torneo, il prossimo weekend nella più vicina Vasto Girardi. L'FC Matese si prepara ad un doppio turno esterno in cui cercherà di dare seguito ai sei risultati utili consecutivi conquistati. Partendo dall'imminente trasferta in provincia dell'Aquila, la compagine di Piedimonte Matese si presenterà al cospetto di una formazione ostica e ben allestita. I biancoverdi di mister Marco Scorsini sono reduci dal netto 3-0 in casa del team Nuova Florida. Nel raggruppamento F è stato il risultato più largo dell'ultimo turno. L'Avezzano sale così a 18 punti, frutto di 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi a pari merito con il Fano. Proprio quest'ultima squadra ha ceduto di misura l'FC Matese domenica scorsa sul rettangolo di Piedimonte. La rete, autografata da Samuel Sorrentino, promettente classe 2003 con 4 marcature all'attivo, ha consegnato alla squadra di mister Urbano una vittoria importante che ha consentito alla formazione del presidente Luigi Rega di salire a 14 punti, allontanandosi sempre di più dalla zona calda della classifica. I verde-oro sono infatti in ottima forma, come testimonia il filotto di risultati ed il buon gioco messo in campo. La guida tecnica Urbano ha saputo risollevare la squadra dopo un inizio di campionato che sembra ormai lontano. Ovviamente non bisogna cullarsi sugli allori, considerati anche i prossimi impegni. Anche l'Avezzano punterà certamente a consolidare il proprio piazzamento. Mister Corrado Urbano in settimana ha preparato i suoi al difficile impegno di domani, studiando le tattiche ed affinando le tecniche da mettere in campo contro gli abruzzesi. Casacca numero uno per Palombo, linea difensiva affidata ai centrali Lagamba e Nocerino, e ai due esterni Sisca e in luogo di Langellotti Salatino. A centrocampo ricamato Ricciardi e Sacò in appoggio alle punte Sorrentino, Esposito e Carnevale. Con fischio d'inizio alle 14.30, allo Stadio dei Marsi di Avezzano, arbitrerà il signor Edoardo Manedo Mazzoni di Prato, coadiuvato da Davide Tranchida di Pisa e Matteo Bertelli di Firenze. Oggi a Gambatesa è in programma un torneo di calcio balilla in modalità tradizionale. Le gare avranno inizio alle 16 e verranno premiati i primi tre classificati. Per iscrizioni e informazioni si può contattare ancora il 347 76 09 504, oppure il 328 055 6 399. Il torneo è stato organizzato da Giovanni Tronca e Andrea Pietra. Adesso il campionato d'eccellenza. Due anticipi nella massima serie regionale, Campo di Pietra, Castella di Sangro e Venafro, città di Zernia. Domani Aurora Alto Casertano, Campo Basso 1919, Aurora Orruri Olimpia Nionese, Pietramonte Corvino Sesto Campano, Guionesi Boiano, Turris Gambatesa e Virtus Gioiese, Campo Marino. Il programma si chiude domani con il big match tra Aurora Alto Casertano e Campo Basso. Il turno potrebbe mescolare un po' di conti in vetta. Il Campo Basso va all'inseguimento della decima vittoria consecutiva. Di Meo vuole colpaccio sul campo quest'anno mai violato dell'Aurora Alto Casertano del tecnico allenatore Mancino. Si giocherà a porte chiuse a Pietramelara, un piccolo comune dell'entroterra Casertano, nei pressi di Vairano. L'Aurora è uno degli antagonisti per la promozione in Serie D e proviene proprio dalla quarta serie. La scorsa settimana ha rimediato un raffreddore abbastanza pesante in casa dell'Isernia. 4 a 1 per i Pentri. Per il Campo Basso si annuncia battaglia. Di Meo dovrà inventarsi il centrocampo, probabile un impiego di uno fra Tizzani o Montuori che insieme a Traoré e Vanzan andranno a comporre il reparto di centrocampo. Mancheranno Di Lollo, Di Lallo e Fazio. Quest'ultima potrebbe mancare per un mese. Tali circostanze potrebbero spingere la società a servirsi del mercato. In attacco previsto qualche ballottaggio come quello fra Ripa e Fruscella che andrà ad avere effetti diretti sul portiere titolare a causa della classe di età. Aurora Alto Casertano Campobasso verrà diretta dal signor Femia Di Locri. In Guglionesi Boiano i Bassomolisani vogliono cancellare a tutti i costi il 6 a 1 patito a Sesto Campano. I boianesi pure hanno necessità di punti e provengono dalla sconfitta di Coppa Italia. 1 a 0 in casa dell'Aurora Alto Casertano. La partita verrà arbitrata dal signor Pasqua Di Termoli. La Turris è una delle squadre più in palla del torneo ed è in serie utile da quattro giornate consecutive. Il pronostico di domani contro il Gambatesa parla chiaramente a favore dei ragazzi di Precali. Direzione di gara del signor Corbo Di Termoli. Ha forte necessità di vincere l'Ururi, abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia, ma la stessa esigenza l'avrà l'Olimpia agnonese, avversario di turno, che vive una situazione simile a quella dei giallorossi di mister Rocco Melchiorre. Arbitro designato Izzo di Isernia. A completare il quadro degli incontri della decima di andata, Pietra Montecorvino, Sesto Campano, che verrà arbitrata dal signor Picciucco di Campobasso, e Virtus Gioiese Campomarino, che verrà arbitrata a Piedimonte Matese, dal signor Di Mario di Campobasso. A proposito dei rosso-blu, ai nostri microfoni, il portiere Di Rienzo. Marco Di Rienzo, portiere del Campobasso, arriva uno 0-0 sul campo del Ripenosani in questa andata di Coppa Italia. Forse un po' inaspettato. Come ha detto in missa, l'avete sottovalutato, e alla fine non siete riusciti a sloccare il match? Sì, è stata una partita un po' così, però lo 0-0 comunque ci permette alla partita di ritorno di giocarcela tutta a pieno e di passare il turno. Paradossalmente tra i due portieri forse sei stato tu quello un po' più impegnato. Sì, è così. Arriva un'occasione a partita e dobbiamo farci trovare pronti. Comunque la testa inevitabilmente era già al match contro l'Oro Alto Casertano, una partita importante per voi fuori casa sul campo l'Oro. Lì dovete cercare di vincere la partita e possiamo dire quasi allontanarvi definitivamente. Sì, sarà una partita durissima proprio perché è anche in trasferta ed è un'ottima squadra con l'avversario. Ci dobbiamo far trovare pronti e vincere per staccare il più possibile gli avversari. Tornando un attimo a questi 90 minuti, cosa secondo te non ha funzionato? Forse come ha detto il mister, siamo stati un po' così sotto tono, l'abbiamo presa alla leggera. È una cosa che però non ci possiamo permettere, che è capitata ma che non succederà più. Campionato di promozione Decimo turno in promozione Il quadro si chiude domani con solo tre gare in agenda. Si apre il sipario che vedrà le formazioni di Serie B regionale affrontarsi per la disputa della decima giornata di campionato. I ben cinque anticipi di oggi lasceranno spazio alle tre gare previste per domani. Queste ultime vedranno coinvolte a partire dalle 14.30 Atletico San Pietro in Valle Spinete e Poli Spietacciato Montenero. Posticipate invece di 30 minuti la gara Trivento-Roccaravindola. Sarà un match importante quello che vedrà sfidarsi l'Atletico San Pietro in Valle e lo Spinete, entrambe a quota 18 punti. La formazione di casa, infatti, dopo essersi imposta largamente con un finale determinante di ben 7-3 sul campo del fanalino di coda, l'Attilia Samnium aggancia anche i gialloverdi di Mister Diamante, che, fermati dalla esernia fraterna con un pirotecnico 3-3, e proprio domani saranno ospiti a San Pietro in Valle. Sarà il fischietto del signor di Domenico di Isernia a dirigere la gara. Altra gara decisiva, quella tra Trivento e Roccaravindola. Formazioni queste ultime che si trovano a pari merito, con 14 punti in graduatoria, in coabitazione con Ripalimosani e Cliternina. Prima amara sconfitta fuori casa, sul campo della capolista polisportiva Fortore, per gli uomini di Mister Viglione, che domani sperano nel favore del campo amico e si apprestano ad ospitare all'Acqua Santiani in Roccaravindola. Gli uomini di Mister Milano sono riusciti a conquistare tutta la posta in palio con un finale di 6-0 nel match casalingo contro la penultima Poli Spetacciato. Proprio la compagine adriatica, reduce da una pesante sconfitta, la farà da padrona affrontando nella gara casalinga il Montenero. I rosso-blu sono al cospetto di Mister Cardamone e lavorano sodo per riscattarsi dopo la scarsa prestazione finita con un 3-1 per la Bois Vairano. Fischietto di gara per Trevento Roccaravindola assegnato a Corrado Ferrara di Isernia, mentre sarà il signor Matarese di Termoli a dirigere Poli Spetacciato Montenero. Adesso le grafiche di prima categoria. Sesto turno nel gironea della prima categoria. a Caroviglia, La Fidelis, Pozzilli, Macchia Godenese, Castello del Mattese, Carpinone, Volturnia, Rocca Vivara, Cerce, Real Prata, Forum, Fornelli, Maronea, Adox, Pietra Milara, Ripose e il Morcone. Girone B della prima categoria. Guardia Alfiera SS Campobasso, Locomotive Riccia, Casali, Dauni, Sandangelo, Limosano, Macchia, Valfortore, Angioina, Colle, Torto, Calena, Difesa Grande, Porticone, Castel Mauro, Frentani, Asciaminad, Real Gildone, Biccari, e Torre Maggiore, Adax Toro. Per gli appuntamenti vi segnaliamo per oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso il Museo di Santa Croce di Magliano la presentazione del libro Survey tra fiumi, pianura e colline. L'evoluzione del paesaggio archeologico territoriale di Santa Croce di Magliano scritto da Pasquale Marino oltre all'intervento dell'autore del volume sarà presente la dottoressa Chiara Santone funzionaria della sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise. Sempre oggi a Campobasso il Barra Pasticceria Divinità in via 4 novembre ha organizzato una serata musicale con il cantante Vittorio Izzo appuntamento a partire dalle 20 naturalmente presso il Barra Pasticceria Divinità a partire dalle ore 20 l'appuntamento con i più grandi successi della canzone napoletana. Vi segnalo anche i nostri appuntamenti per quel che riguarda lo sport sulla nostra emittente domani pomeriggio con inizio alle ore 14.25 a tutto campo in diretta dagli studi di Campobasso con Luigi Di Lallo, Benedetta Fazio e dai campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio appuntamento con Domenica Sport domani è una puntata veramente speciale perché pensate è la puntata numero 1300 quindi evidentemente se consideriamo che il programma c'è soltanto il giorno festivo la domenica evidentemente abbiamo trascorso mille domani se Dio vorrà avremo trascorso 1300 domeniche in diretta con tutto il nostro vastissimo pubblico che ringrazio sempre per l'affetto che dimostra in ogni circostanza. Quindi appuntamento alle 18 una puntata numero 1300 naturalmente tutte le partite della domenica con commenti, opinioni, ospiti e qualche azione alla Moviola. Vi segnalo anche i nostri gol i nostri gol della domenica quindi a partire domani sera dalle ore 22. Bene, è tutto. Buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.